alessandro se vogliamo parlare della sicurezza cosa offre in più la zappi in termini di questa materia della sicurezza la sicurezza è un argomento che diciamo nelle macchine elettriche viene un po trascurato spesso si carica con i caricatori portativi si carica con le prese sciuco eccetera però queste sono modalità che non verificano che sia tutto congruo nel momento della ricarica in particolare le wallbox introducono molte altre diciamo sistemi molti altri sistemi di sicurezza per evitare appunto fenomeni come incendi eccetera verificano le temperature verificano le tensioni questo sembra una cosa poco importante i caricatori per esempio portatili non lo fanno ma se la tensione di rete va fuori da 230 volts più o meno 10 per cento quello che la normativa prevede per la ricarica tutte le wallbox si devono fermare immediatamente la nostra si ferma e poi riparte in automatico cercando di trovare questa tensione corretta non fermandosi invece i caricatori portatili mettono a rischio proprio la sicurezza e la integrità della macchina una tensione non conforme può danneggiare il caricatore a bordo e questo potrebbe non essere una cosa molto piacevole proprio per l'utente che è costretto a cambiare una componente che costa quanto il 10 per cento della macchina quindi è molto importante avere sistemi sicurezza attivi che verificano appunto dispersioni elettriche sia in corrente continua sia in corrente alternata e sono tutte integrate nella wallbox che verificano la tensione corretta che non verifichino anomale perdite di potenza sulla terra o sul neutro eccetera tutte cose che la wallbox fa vi ricordo inoltre che mentre in un ambiente privato c'è la possibilità di scegliere in ambienti condominali cioè dove ci sono dei garage è d'obbligo utilizzare una wallbox in particolare se il garage o la rimessa è dotata di cpi cioè certificato di prevenzione incendio dei vigili del fuoco è obbligatorio utilizzare esclusivamente una wallbox per la ricarica non solo fare far fare l'impianto tutto certificato e collegarla agli sganci dei vigili del fuoco in modo che in caso di incendio i vigili con un unico tasto disattivino luci e wallbox presenti vi ricordo che questa è un obbligo di legge significa che in caso di incendio procurato dalla vostra macchina caricata da un carichino cioè da un asciugo voi siete responsabili di tutti i danni provocati dall'incendio anche tutto il palazzo qualora bruci tutto il palazzo e l'assicurazione della macchina non vi coprirà in questo caso perché la normativa appunto prevede che abbiate la wallbox